Centinaia di persone, in maggioranza stranieri, prevalentemente egiziani, indiani e pakistani, circolano sulle strade senza aver mai superato l'esame teorico per ottenere la patente. Quale loro possesso, infatti, a farlocca, pagavano dei 2 ai 4 mila euro per il pacchetto completo. A scoprirlo, la polizia stradale di Bergamo, che ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, 3 in carcere e 12 ai domiciliari, per reati come contraffazione di documenti di identità e falsificazione ideologica delle attestazioni nelle relazioni mediche. Si tratta dei membri di una presunta organizzazione che, dietro il pagamento, riuscivano a far ottenere la patente di guida attraverso l'uso di strumenti come microfoni e auricolari senza fili, sino alla sostituzione di persona. La banda era attiva nelle province lombarde, ma anche ad Arezzo, Treviso, Firenze e Novara. Ognuno ricopriva precisi compiti e ruoli, l'organizzatore, il suggeritore, l'esperto informatico, il farzario e poi collaboratori, procacciatori di clienti e promotori. Spesso erano usate videocamere nascoste nei vestiti, microfoni e auricolari senza fili. Oltre 40, invece, candidati al conseguimento della patente di guida che sono stati denunciati a piede libero. Nell'indagine, infine, è stata anche sequestrata a scopo preventivo la somma di 100.000 euro.